Bene, eccoci qua cari amici e partiamo immediatamente con la provincia di Gorizia accende le luci di Natale dopo un nostro annuncio dell'altra settimana nel nostro programma di Gorizia Magazine che adesso si chiamerà goriziatv.it, cari amici, ci troviamo in corso e dopo il nostro annuncio la provincia di Gorizia ha voluto farsi sentire immediatamente ed ecco qua, ed ecco qua le luci pronte e accese per far vedere la città che esiste, la provincia allora cari amici, un bel salutone a tutti quelli che ci vedono sempre e speriamo andate nel nostro sito www.goriziatv.it, siamo entrati finalmente e vi faremo vedere le ultime novità e allora salutiamo la provincia di Gorizia e gli facciamo tanti auguri di Buon Natale Ciao amici! Ciao amici!